Ragazzi, prima di cominciare questo video, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche per essere sempre informati sui nuovi video, dopodichè lasciate un bel mi piace, buona visione! Salve a tutti ragazzi, bentornati in questione, io sono Genen e oggi siamo tornati su Minecraft e nei minigames per fare gli undergames, no, le badwars Perché hanno aggiornato il server di Jartex nella promessa, vabbè, solo mod, double mod, overpowered mod che già c'era, doubles mod che già c'era e la quadpole mod Andate alla quadpole! Ragazzi, mi ha fatto entrare, manco la squadra ho scelto Ok ragazzi, completiamo la copertura di questo bellissimo letto Lei non ha più il letto No, 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 ragazzi Si, upgrade? No eh Vabbè, io metto le spade perché, cioè, l'iron vorge è la prima cosa da fare Ma, se sti deficienti, inutili, i diamanti se li mettono nel culo Perché chissà che ci fanno quegli diamanti, eh Cioè, loro prendono i diamanti e spariscono Ah, qua c'è gente, salve Salve Sì Ma è dove sta andando? I green mi sa che sono per la maggior parte al centro Quindi Io, cosa faccio? No, che cazzo vuoi tu? Nooo, ma che so, ah, era con quanto spam, ma intanto io ho spaccato il letto ai green Avanti così, dai Raga, che azione Trap triggere Taglia bucciata Uno Due Oh mio Dio Quanta roba mi hanno dato? Grazie mille No Spero che non abbia un arco E non sto laggando, eh Ho parlato Questa sì che si chiama Spir Ok ragazzi, parlando di lag Ah, ho messo di laggare Ah, ho messo di meta Vaffanculo greco Eh sì No, cazzo Il grad Questo è tutto indavantato Ui, che cazzo vuoi? È la lesbica L'ho ucciso? E vai L'unica è buttata di sotto Può scappare Via Fuga Ora non cominciate a suicidarvi Che se non vengo a casa E vi ammazzo A casa nostra E vi ammazzo le famiglie Ok Ammi qua Eh, vai Mi devo dare una matura in diamante Assolutamente Vaffanculo Per la combattere Spero solo che non siano In tanti Spero incontrarli una alla volta In modo tale da Poterli Just Cioè Poterli Ammazzare meglio Ora io Sono ammesso da solo Ancora è vero? Mamma mia GG per te Unico Grazie Cosa? Cosa? Dov'era? Dov'era? L'altro dov'è? Al centro No 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 Gartex Fa schifo Gartex Fa schifo Tu non puoi Ma Vabbè Ragazzi Per questo video è tutto Vi ringrazio Mi piace Iscrivete al canale Se non l'ho fatto Commentate questo Tottoscrivete In questo caso Noi ci vediamo In questo video Ciao ciao Ciao